Completamento metropolitana di Catania, ospedale San Marco a San Giorgio, parte dell'autostrada Catania-Ragusa e anello ferroviario di Palermo sono queste tra le altre le maggiori opere infrastrutturali della Sicilia messe seriamente a rischio dalla profonda crisi societaria della Tecnis innescata dal terremoto giudiziario di fine estate che ha investito i vertici dell'impresa con conseguente grave difficoltà per centinaia di lavoratori senza stipendio da mesi. La Tecnis rappresenta una ricchezza della Sicilia e di questo territorio solo a Catania ci sono 300 dipendenti più l'indotto abbiamo lavori pubblici importantissimi aperti dappertutto da Catania a Palermo e in altri posti della Sicilia era anche l'azienda doveva realizzare la nuova perlaionica quindi siamo oltre il pubblico quindi siamo di fronte a una ricchezza di questo territorio che se dovesse venire meno produrrebbe un'ondata di piena sulla già disastrata economia catanese e siciliana in generale ci chiediamo le opere pubbliche aperte dal tram di Palermo a Catania la metropolitana all'ospedale San Marco che fine farebbero? e questo è un problema gravissimo che ci sentiamo di sottoporre alle istituzioni e questo è un problema gravissimo che ci sentiamo di sottoporre alle istituzioni